Il 20 luglio scorso è stato riaperto con la pubblicazione sul Burk della Regione Campania il bando Garanzia Giovani per l'inserimento e il reinserimento al lavoro, ad informare della nuova opportunità come di consueto alla responsabile territoriale di Confesercenti, Maria Antonietta Aquino. La Regione Campania, spiega la Aquino con la nota operativa di questi giorni, ha dato da un lato l'avvio alle azioni di attivazione dei tirocini di Garanzia Giovani della prima finestra attraverso la possibilità di poter pubblicare gli annunci da parte dei soggetti ospitanti e permettere ai ragazzi di poter rispondere ai vari annunci. Nel contempo ha riaperto la seconda finestra temporanea. A decorrere dal 20 luglio scorso fino al 31 dicembre 2021, tutti i soggetti ospitanti, imprese o studi professionali possono presentare progetti relativamente alla possibilità di poter ospitare tirocinanti dai 16 ai 35 anni non compiuti, anche studenti. Il programma Garanzia Giovani consiste nel cofinanziamento di un tirocinio della durata di 6 mesi, con 300 euro a carico della Regione Campania e 200 euro a carico del soggetto ospitante. La ritengo una misura valida per poter permettere ai tantissimi giovani di poter affacciarsi al mondo del lavoro, sottolinea la dottoressa Quino ed il Vallo di Diano ha già risposto in modo positivo al primo bando. Sono certa che risponderà in modo positivo anche a questa seconda finestra temporale. Noi ormai da anni offriamo questo servizio in modo dettagliato e puntuale e nello specifico Confesercenti Vallo di Diano offre il servizio di progettazione a titolo gratuito ed il servizio di attivazione e monitoraggio del tirocinio. Per informazioni, lo sportello Confesercenti Vallo di Diano si trova accanto alla filiale della Banca Montepruno in via San Sebastiano a Sala Consilina ed è raggiungibile anche all'email Vallo di Diano-Chioccia-le-imprese-al-centro.it al numero telefonico 0975 52 72 77 o al sito internet www.imprese-al-centro.it